Ecco, in fondo inquadro la Luna, che chiamo e definisco il Sole nella notte, per dire che il Sole è sempre presente di giorno e di notte. Perché? Perché la Luna, essendo un pianeta spento, riflette la luce del Sole sulla Terra. E così la Luna è il Sole nella notte, o almeno ciò che trasmette la luce del Sole nel buio della notte sulla Terra, perché gli uomini possano vederlo anche nel buio. Questo per dire quanto è grande e meravigliosa la vita e capirla insegna una cosa sola, che la vita è geniale come creatore che l'ha voluta. Questo meraviglioso Sole nella notte, chiamata Luna, ha guidato per secoli e secoli tantissimi uomini nel buio della notte, sui mari o in terra, perché giungessero alla loro destinazione. Ecco, in poche parole semplici, un plagio, un elogio a ciò che si guarda solo come simbolo d'amore, ed è un simbolo d'amore caldo, dolce, vicino, come lo è il Sole stesso nel giorno della vita dell'uomo. Ciao Luna, grazie per riflettere il Sole sulla Terra anche nei momenti più bui della nostra vita.